E oggi continuiamo con le domande 3 e 4 che pongono il quesito che significa perfettissimo riguardo a Dio e che significa creatore. Siamo dunque sempre nel primo articolo del nostro credo e parliamo sempre di Dio e cerchiamo, aiutati da San Pio X e dalle spiegazioni del padre Dragone, in questo bel catechismo di penetrare questo primo e grande mistero della nostra religione l'esistenza di Dio, Dio che ha creato il cielo e la terra Dio che dunque trascende tutto il creato, ne è distinto lo ama il suo creato, l'ha creato, l'ha salvato e anche lo giudicherà tutte queste verità per noi sono un balsamo per la nostra anima per la nostra mente, anche perché ci purificano anzi è come un vaccino contro la mentalità moderna che è panteistica, cioè che divinizza il creato e abbassa il concetto di Dio appunto facendolo identico alla creatura e alla fine è dunque l'uomo che glorifica e vive per i suoi capricci andando di infelicità ad infelicità e voi sapete la massima infelicità è quella che la Santa Vergine Maria fece vedere ai bambini di Fatima e purtroppo è quella infelicità eterna che è l'inferno ora senza la fede non si può piacere a Dio e non ci si può salvare ecco perché la grande importanza di conoscere, meditare e amare il catechismo terza domanda dunque che significa perfettissimo perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione senza difetto e senza limiti ossia che Egli è potenza, sapienza e bontà infinita ecco che la risposta che San Pio X ha formulato alla domanda che significa perfettissimo, questo superlativo che cercheremo di capire non è semplicemente un modo così di esprimere un superlativo ha un suo significato preciso perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione ecco la perfezione che dunque anche le povere creature imperfette le richiedono come i due ciechi di Gerico di cui parla il Vangelo e sentivano infelici perché mancava loro una qualità necessaria cioè l'uso della vista, qualche cosa che proprio alla natura umana loro mancava e avvicinandosi Gesù gridarono Gesù figlio di Davide abbi pietà di noi e il Salvatore fu commosso e li guarì lui che ha la perfezione la dà a chi non l'ha a chi manca di questa perfezione i dunque i due ciechi colui al quale manca qualche cosa che hanno tutti gli uomini normali l'uso delle gambe, la vista, la parola eccetera è imperfetto ecco un primo concetto di imperfezione l'uomo è imperfetto solo quando gli manca una qualità propria dell'uomo invece non è imperfetto non è imperfezione la mancanza di una qualità o di qualche altra cosa non dovuta alla natura umana e sì non vedere è un'imperfezione ma non essere capaci di volare non avere le ali è qualche cosa che l'uomo non ha ma non essendo facendo parte della sua propria natura non è una imperfezione le creature possono essere perfette ma appunto non perfettissime ecco che perché cerchiamo di capire meglio perché si dice di Dio che è perfettissimo perché non sono in grado di avere tutte le perfezioni né di averne alcuna in sommo grado solo Dio è perfettissimo e quindi ha il primato magisteriale ecco che adesso spieghiamo perché innanzitutto Dio ha tutte le perfezioni degli esseri creati Dio ha tutte le perfezioni degli esseri creati gli esseri creati abbiamo appena visto sono perfetti quando hanno le loro perfezioni quando non hanno le altre perfezioni di altri esseri creati non è per loro un banco non toglie niente alla loro perfezione però appunto sono limitati nelle perfezioni perché essendo tale creatura hanno solo quelle perfezioni nelle creature ammiriamo molte qualità o perfezioni come la bellezza la bontà la scienza la potenza ma chi ha dato queste perfezioni? Dio che necessariamente possiede ciò che dà non è che qui vogliamo fare una semplificazione della creazione il ragionamento l'avevamo fatto l'ultima volta ma noi diciamo così come sappiamo che ogni essere ha la sua origine in Dio il primo essere ci chiediamo nelle varie creature le perfezioni da dove vengono? da sempre una prima perfezione quella prima perfezione che ci fa rimutare a Dio dunque da chi vengono tutte queste perfezioni in tutte le varie e distinte e diverse creature vengono tutte da Dio dunque la perfezione dell'aquila di volare altamente come la perfezione della natura umana di avere la vista vengono tutte e due da Dio ecco che lui punto ha tutte le perfezioni in un modo in un modo sovraminente ecco perché è perfettissimo in lui vi sono tutte le perfezioni e attenzione in più possibili ecco che penetriamo ancora più nella grandezza e nella perfezione di Dio non solo Dio ha tutte le perfezioni e perciò è perfettissimo come abbiamo appena spiegato ma in lui vi sono tutte le perfezioni possibili in Dio vi sono tutte le perfezioni anche quelle che noi non possiamo constatare perché Dio può creare infiniti altri uomini e mondi più perfetti di quelli esistenti in lui vi sono quindi tutte le perfezioni che potrebbe comunicare agli infiniti esseri creabili e sì Dio ha scelto di creare l'universo come l'ha creato ma appunto poteva anche crearli ancora più più perfetti e poteva andare all'infinito nella loro perfezione ecco quello che ci distingue tanto dalla mentalità moderna dalla mentalità panteistica dalla mentalità che divinizza il creato in qualsiasi sua forma perché la conoscenza è la scoperta che il mondo è creato che viene da Dio che è perfetto e che potrebbe essere ancora più perfetto se avrebbe voluto Dio ci dà al contempo una una dolce una dolce ammirazione di questo mondo però che ci porta a Dio e al contempo ci ne dà anche un distacco non ne facciamo una malattia della creazione ma ne facciamo la medicina il mezzo per elevarci a Dio dunque questa è la perfezione di Dio che è perfettissimo e perciò senza difetto e senza limiti e qui dobbiamo riconoscere che anche se nelle creature vi sono qualità perfette però hanno sono limitate sono limitate nel tempo e anche nel grado di perfezione non è da andare a cercare molto lontano qui il padre Dragone dà l'esempio della mamma della mamma che è perfettamente paziente con i bambini finché finché la pazienza cessa e non ne può più e diventa impaziente non vuol dire che è impaziente però questa perfezione ha un limite o la scienza del maestro che non è infinita perché egli non sa tutte le cose più studia e più si accorge che sono molte le cose che non conosce e continua a studiare e a leggere per accrescere le sue cognizioni e non dimenticare ciò che ha studiato se una creatura avesse anche una sola perfezione infinita sarebbe infinita anch'essa ed uguale a Dio questo lo capiremo meglio più tardi e ritorneremo spesso su questa realtà le nostre perfezioni non sono senza difetto e senza limiti sono difettose non conosciamo tutto e quel poco che conosciamo lo conosciamo male la nostra potenza non può fare tutto sono inoltre limitate nel numero infatti non possediamo molte perfezioni e ve ne sono tante altre come abbiamo già parlato al di fuori di noi l'eternità di origine o l'immortalità e tante altre invece le perfezioni di Dio sono senza difetto e senza limiti le ha tutte in modo infinito se gliene mancasse anche una sola o la possedesse in grado imperfetto non sarebbe infinito e quindi non sarebbe neanche più Dio allora Dio non solo ha o possiede le perfezioni ma come dicevamo già l'ultima volta è tutte e ciascuna delle sue perfezioni non solo Dio è buono sapiente potente cioè dotato di bontà sapienza potenza ma è la stessa bontà la stessa sapienza la stessa potenza e ciascuna delle sue perfezioni che si identificano con Lui in Dio la perfezione si identifica con il suo essere e dunque l'essere stesso in Dio non è un essere che è qualche cosa ma è per sé stesso l'essere l'ultima volta avevamo ricordato appunto che in Dio non vi è distizione fra essere e essere tale in Dio è l'essere perfetto che non ha nessuna causa e perciò neanche nessuna composizione ecco perché anche tutte le perfezioni che noi troviamo in Dio tutte le perfezioni che troviamo nelle varie creature e che facciamo risalire necessariamente per quel ragionamento che facevamo anche per quanto riguarda la necessità dell'esistenza di Dio sono in Dio tutte queste perfezioni però appunto in un modo che oltrepassa la nostra capacità di intendere anche a livello naturale perché in Dio tutte le perfezioni della creatura sono però al contempo Dio non è composto nel senso che non c'è composizione in Dio non c'è questo questo e questo quest'altro la bontà la giustizia e la saggezza come come nell'uomo che può essere una volta buono una volta saggio una volta giusto e in gradi differenti in Dio questo non esiste è tutto uno è tutto perfetto è tutto eterno è tutto insieme e appunto ecco che possiamo anche capire la ragione della creazione per manifestare questa sua infinita e perfettissima natura crea e crea tante creature per trovare un modo e ce ne sarebbero tanti altri ma ha scelto quello di manifestare attraverso la molteplicità delle creature e delle perfezioni la sua grandezza la sua bellezza la sua bontà alla quale ci vuole la quale vuole renderci partecipi ecco che dunque tutto quello che ci è detto perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione senza difetto e senza limiti vuol dire che Egli è potenza sapienza e bontà infinita tutte le perfezioni e tutte si identificano con Lui come abbiamo appena detto Egli è infinito e infinite sono quindi anche le sue perfezioni tutto questo deve essere per noi materia di grande elevazione spirituale grande elevazione mentale intellettuale che deve fare anche un grande bene alla nostra anima più 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 sensitiva più affettiva perché tutte queste realtà ci danno come abbiamo detto al contempo un rapporto di di sì di amore amiamo la creatura per il suo creatore conosciamo la creatura per conoscere il nostro creatore la creatura così diventa per noi un mezzo come il beato contardo ferini scriveva al suo amico vieni con me ti farò conoscere le mie montagne e là parleremo di Dio come un bello come bello su una vetta solitaria avvicinarsi a Dio e contemplare nella natura selvaggia e rude il suo sorriso eternamente giovane ecco che non si tratta qui di semplicemente effusioni effusioni sentimentali perché la differenza fra l'effusione sentimentale nell'ammirare la natura e l'ammirazione cristiana della natura sta in questo che il cristiano il cattolico ammira la natura la 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 gusta anche ma sempre con quel dono dello spirito santo della scienza che lo fa risalire a Dio e che gli fa lasciare un 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 desiderio un desiderio di vedere la vera causa la vera perfezione da quale queste perfezioni qui su terra partecipate hanno origine e che dunque fa nascere il desiderio di di vedere Dio e fa nascere con questo desiderio anche la generosità e il coraggio di percorrere in questa in questa vita la vita che è quella del peccato originale cioè ben salvati e sì dunque con grande speranza però attraverso la penitenza il dolore e la morte cioè la croce arrivare poi al creatore ecco che ci chiediamo nella quarta domanda che significa creatore creatore significa che Dio ha fatto dal nulla tutte le cose questo significa creatore fare dal nulla non si mediterà mai abbastanza le prime parole della santa scrittura in principio Dio creò il cielo e la terra ora la terra era in forme e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio si librava sopra le acque con poi il seguente è dunque racconto della della creazione dove vengono descritte l'opera dei sei giorni che si compie in due periodi di tre giorni nel primo periodo Dio separa la luce dalle tenebre poi primo giorno le acque superiori dalle inferiori nel secondo giorno la terra dall'acqua il terzo giorno e così vengono create tre regioni ossia la regione della luce la regione dell'aria e la regione dell'acqua e la regione della terra nel secondo periodo Dio popola le tre regioni di abitatori la regione della luce di astri il quarto giorno la regione dell'acqua ed è l'aria di pesci e di uccelli il quinto giorno e la regione della terra di animali e dell'uomo sesto giorno da notare che l'acqua e l'aria vengono considerate come una regione sola e le piante invece già della terra ecco questa questo significa creatore che Dio ha fatto dal nulla tutte le cose cosa significa che non ha avuto nessun mezzo per produrre nell'essere le varie le varie creature distinte secondo la loro la loro essenza ecco che questo ci insegna e insegna alla natura umana che da se stessa può e arriva necessariamente a un primo essere distinto delle altre cose e perfetto e senza origine e senza causa che appunto è Dio il primo essere ma queste prime parole questa parola che viene rivelata e che fa di Dio il creatore che lo chiama creatore ci fa capire che l'universo non esiste da tutta eternità questo concetto di creatore ci insegna che dunque l'universo ha avuto un'origine e chiaramente questa origine non è il caso ma non è un'origine di disordine e confusione da un amasso di pietrame non sorgerà mai per caso un edificio nel mondo invece vi è un ordine mirabile dal succedersi del giorno della notte e delle stagioni ai movimenti degli astri del cielo all'uomo e all'angelo tutto è ordine meraviglioso che suppone un'intelligenza e una potenza creatrice e ordinatrice ecco una delle tante perfettissime qualità di Dio l'intelligenza e la potenza creatrice e ordinatrice e vedete quanto scientifico quanto scientifico è dunque il concetto della creazione e quanto nutre la mente umana e la inalza e la nobilità da tutti altri da tutte le altre credenze pagane circa la cosmogonia circa l'origine dell'universo vedete voi sapete bene conoscete bene quanto viene quanto viene criticata la sacra scrittura noi sappiamo già che la scuola d'Alessandria già i giudei all'epoca dicevano queste sono tutte favole la la genesi qua è tutto è tutto una favola poi venivano i razionalisti dicendo sì ma in ogni modo se si legge questa genesi si ritrova la stessa cosa nei racconti assiro-babilonesi dunque è semplicemente un scopiaziare non è mica vero non è mica vero perché in nessun altro nessun altro racconto vi è questo chiarissimo concetto del Dio personale che trae dal nulla le cose e le ordina e questo è il grande momento che bisogna tenere nella sacra scrittura quando narra la creazione del cielo e della terra allora poi vi sono le altre obiezioni ma sì ma qui si parla della terra di un piatto che sta su delle colonne con una cupola sopra con le cataratte che si aprono per far piovere questo non può essere come dicono i cattolici ispirato da Dio perché è tutto un errore non è vero l'immagine della della terra come piatto che ripone su su delle colonne corrisponde a quello che la popolazione all'epoca immaginava di essere il cielo e la terra e Dio ispira l'autore di descriverlo così ma sapete è un po' come noi quando la mattina apriamo la finestra eppure avendo fatto studi a scuola e abbiamo studiato Copernico e Galilei e tutto malgrado tutto noi apriamo la finestra e diciamo sorge il sole e la sera diciamo il sole il sole si abbassa e pertanto non è vero però è vero che così a noi appare ed è legittimo anche utilizzare il modo ed esprimere così come le cose appaiano allora risponde Santa Madre Chiesa non tutto quello che è ispirato vuole essere una spiegazione scientifica così Dio ispira all'autore di descrivere il mondo così come le persone lo conoscono per però poi rivelare ecco il grande momento che Dio è il creatore del cielo e della terra e che tutte le cose le ha tratte dal nulla e che tutte le cose sono secondo la sua intelligenza ordinate e fatte e organizzate tratte da quella materia primordiale iniziando dalla luce iniziando dal firmamento gli astri gli uccelli i pesci gli animali le erbe gli alberi e infine l'uomo l'uomo stesso e sapendo questo siamo ben più ricchi e più sicuri nelle certezze che non la scienza che malata si precipita da dubbio in dubbio e tanto a noi fornisce anche informazioni molto interessanti però che poveri quei eruditi scienziati che studiano tutto tranne la cosa la più bella la causa di tutto quello che stanno studiando ecco e allora noi ringraziamo per poter recitare con convizione credo in un Deum Patrim Potentem Creatorem Cili et Tere se l'ho dato Gesù Cristo sempre se l'ho dato allora io volevo chiederle se è pertinente che noi siamo in base della teoria del Big Bang e dell' dell'evoluzionismo cosa possiamo fare è una teoria è una verità è una verità parziale cosa si può rispondere a queste persone visto che Padova c'è la sinietta che si trasforma in uovo nel cavalcavia ma se si vuole prendere per esempio il Big Bang no noi possiamo rispondere rispondere così che tutto quello che succede dopo quel momento che rivela la prima frase della Santa Scrittura che Dio dal nulla fa venire all'esistenza la famosa materia primordiale come la chiamano poi i teologi cioè quella celum et terram o quello che in ebraico si chiama il tohu vabohu cioè quella quella terra in forma e vuota da quel momento in poi per intervento di Dio il cui spirito appunto pianava sulle acque ecco che inizia tutto una un'evoluzione di creazione però appunto non un nascere per caso e spontaneo di varie forme dell'essere però un ordinatissimo organizzare di questa materia primordiale di cui noi sappiamo benissimo che i sei giorni come sono descritti nella santa scrittura possono intendersi come sei volte ventiquattro ore o anche come sei volte milioni di anni lì la chiesa lascia tutta libertà anche alla scienza di di cercare di di meditare noi abbiamo per esempio meditato insieme sul fatto che la luce nella nella genesi è è creata prima prima degli astri e perché no e perché no quando qui il grande commentatore padre Marco Sales spiega Dio dice sia fatta la luce e poi dice che noi non sappiamo non è possibile determinare la natura di questa luce e mentre alcuni pensano che essa provenisse dalla condensazione e dalle varie combinazioni e alterazioni a cui andavano soggette le masse cosmiche le quali cominciavano a raggrupparsi altri ritengono che si tratti già della luce del sole ed è questo è spirito cattolico molto aperto e che sicuramente accetta e studia con molto interesse anche una teoria appunto del Big Bang che non ha la pretesa di rendere ragione dell'origine ma che descrive come poi le cose si sono fatte di rendere ragione di rendere ragione